Buonasera a tutti. Nella nostra puntata di Focus incontriamo Giovanni Alfano, che è un amico che fa parte delle forze di polizia, la polizia di Stato, e che dopo tanti anni di impegno sindacale nell'ambito proprio della polizia di Stato, ha scelto di occuparsi a 360 gradi delle polizie e quindi di tutti i corpi che fanno parte nell'ambito delle forze dell'ordine e di non essere più attivo soltanto nell'ambito della contrattazione aziendale, che possiamo riconoscere a una dimensione sindacale, ma su un gradino, diciamo, culturale diverso, che è quello di considerare un po' tutti i vari passaggi e tutte le situazioni che sono nell'ambito di questi uomini e di queste donne. Allora, Giovanni, che noi in amicizia chiamiamo Gianni, ecco Gianni, io naturalmente ti ringrazio per questa tua presenza, a cui mi interessa molto, scopriremo anche, come dire, anche alcuni argomenti che sono gli argomenti probabilmente più importanti da sottolineare, ecco, più importanti da discutere, però questo, voglio dire, lo discutiamo dopo. Tu hai scelto di far parte di un'associazione, un'associazione sul piano nazionale, che si chiama Associazione Condivisa, che è un insieme di un con con la divisa, e mi sembra, come dire, già questo pertinente, e poi c'è una sorta di continuità che dice sicurezza e giustizia. Allora, il primo compito di questa associazione che io ho letto è un aspetto generale, che è quello della promozione dei valori etici, quindi i valori etici sia delle donne che degli uomini che fanno parte delle forze dell'ordine. Naturalmente ci sono dei percorsi nell'ambito associativo che fanno, come dire, sono poi stabiliti dallo statuto, ma è un'esigenza che è stata dei fondatori, soci fondatori, che era quello, ecco, di puntare l'attenzione su questi uomini e su queste donne, che mi sembra, insomma, voglio dire, oggi assolutamente pertinenti, perché è una grossa famiglia, voglio dire, che parte dal presupposto della sicurezza e quella della giustizia, quelle due parole che, insomma, hanno un significato davvero particolare. A te presentarci l'associazione. Grazie Giuseppe, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori, io ho accolto ben volentieri questo invito di venirti a trovare e di parlare di questo mio nuovo impegno sociale. Ringrazio innanzitutto l'emittente che è sempre attenta, a te in particolare, che con la tua trasmissione Focus dai sempre importanza a queste, diciamo, tematiche sociali che sono veramente importanti. Io da febbraio ho accettato questo incarico come referente regionale di questa associazione condivisa, indipendente a partitica, a politica, la cui presidente, che ringrazio, è l'avvocato Lia Staropoli. Lei ha iniziato già da diversi anni questa attività con questa associazione, prima ha partecipato in un'altra associazione, Ammazzateci Tutti, e poi in questa che ha creato Condivisa. Chiaramente io nel Molise chiederò anche alle varie forze dell'ordine, agli appartenenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, di iscriversi, anche perché l'iscrizione da noi è gratuita, però abbiamo, come dicevi tu, degli impegni importanti a livello sociale che guardano con attenzione l'appartenente alle forze di polizia e soprattutto alle loro famiglie. Quindi noi puntiamo molto a salvaguardare l'immagine di legalità della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine, e quindi cerchiamo di salvaguardare proprio i valori etici che, come stavi giustamente puntualizzando, sono alla base di questo lavoro. A volte, soprattutto nei tempi di oggi, vengono sottovalutate alcune situazioni e noi come associazione, quindi non più come facevo fino a qualche tempo fa come sindacato, che riguardava soltanto una fetta delle forze dell'ordine e addirittura nelle stesse forze di Polizia, Polizia di Stato, ci sono diverse organizzazioni sindacate. Quindi con questa associazione, che si guarda anche a 360 gradi a tutte le forze di Polizia, si va proprio a cercare di salvaguardare i valori comuni che hanno tutti in questa associazione. L'associazione Condivisa e Sicurezza e Giustizia, leggo come primo punto, si propone di promuovere i valori etici che trasmettono gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, delle forze armate e dell'intelligence. Proprio in questi giorni l'associazione ha organizzato giù in Vibo Valencia una manifestazione per ricordare tutti i caduti dell'intelligence, che difficilmente vengono ricordati, eppure sono stati vittime, così come anche altri, per salvaguardare i valori e la democrazia dello Stato italiano. Questa associazione si prefigge di contrastare il consenso sociale, l'omertà, la reticenza, nelle zone fortemente interessate dalla criminalità organizzata e quindi giustamente si riferisce questo statuto alla Calabria, alla Sicilia, ma ciò non vuole sottovalutare anche il nostro Molise. È giusto, magari anche con questa associazione, cercare di prevenire, quindi di fare e di mettere in pratica le cosiddette buone pratiche, di cercare di sensibilizzare il cittadino a collaborare con la giustizia e quindi di evitare proprio che si possa propagarsi il malaffare. Posso riferirmi a tante situazioni che anche nel nostro Molise sono state messe in evidenza, però è giusto che io cominci a iniziare a lavorare sul territorio anche e soprattutto a livello preventivo. Senti, è naturalmente un cambio anche di lavoro, anche di visione probabilmente del tutto. La prima cosa che mi viene è questo, cioè dal settore, quindi dal limite settoriale e anche poi dalla caratteristica della contrattazione stessa nell'ambito sindacale, ecco si passa a un aspetto che io già prima ho definito culturale, perché comunque la visione complessiva di una serie di percorsi è una serie di tutele, che sono poi tutele negli ambiti delle stesse categorie di lavoratori. Tante volte abbiamo per esempio osservato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, il senso per esempio di essere additati gli uomini di qualche reato e naturalmente diventa un meccanismo anche di sicurezza, cioè per essere svincolati da qualunque tipo di controllo. Quindi l'uomo che appartiene alle forze dell'ordine acquisisce una tutela complessiva che l'associazione mette a disposizione, per esempio una tutela legale. Ecco, la domanda che ti faccio è questo, il bisogno della tutela legale, cioè è anche un bisogno di copertura sui propri atteggiamenti. Certo, io credo che la tutela legale di per sé già viene riconosciuta ad esempio nell'ambito della Polizia di Stato per attività connesse al proprio servizio e quindi però a volte il poliziotto, il carabiniere che si trovano indagati in alcune situazioni devono anticipare chiaramente di tasca loro per poi chiedere il rimborso delle spese legali al termine e solo chiaramente se hanno poi avuto un procedimento positivo oppure di archiviazione. Però a tutti gli effetti, Giuseppe, io volevo puntualizzare che questa associazione veramente per come sta improntata, ha rispecchiato molto delle attività che io in passato col sindacato ho portato avanti, nell'esclusivo interesse della sicurezza nel territorio nazionale, tipo la lotta alla mafia, che è uno dei primi obiettivi di cui abbiamo già parlato. Io in passato nel Morise ho cercato di organizzare, di sensibilizzare con dei convegni, dei seminari, portando anche persone di un certo rilievo, ricordando i caduti, il 19 luglio la strage di Via D'Amelio, Borsellino e gli uomini della scorta, quella di maggio della strage di Capaci, il 23 maggio morto Giovanni Falcone, giudice Falcone, la moglie, con gli uomini della sua scorta. Ho cercato sempre di sensibilizzare il ricordo dei caduti come anche Emanuela Loi che è stata della scorta di Borsellino e abbiamo organizzato il sequestro d'Aldomoro, Giulio Rivera. Quindi per me è un continuare, un qualcosa che come persona, io personalmente ho già messo a disposizione del sindacato nel passato e quindi ho cercato di portare avanti e con questa associazione spero di riuscirci queste tematiche che hanno della sensibilità e dell'attenzione nei riguardi soprattutto dei caduti, della lotta alla mafia. Io credo che con questa associazione, così come prevede anche l'articolo 2 della nostra Costituzione, io possa, così come tanti altri colleghi che mi auguro che si iscriveranno, possano portare la loro personalità, possono sviluppare la loro personalità all'interno di questa associazione perché contribuire a uno stato sociale migliore, quindi portando queste problematiche all'attenzione del cittadino magari anche con degli eventi, così come convegni, webinar, seminari, credo che sia una cosa di un alto valore. Chiaramente la cosa che mi piace di questa associazione, che mi attira maggiormente, è quella anche che è molto propositiva. Certo. Sì, la proposta, io devo dire la verità, nell'ambito delle visioni, un po' delle partecipazioni, anche delle cose che tu comunque negli ultimi tempi sei riuscito, insomma, come dire, a veicolare, perché sono notevoli e sono di una grossa importanza. Il punto principale, secondo me, te lo dico senza ombra di dubbio, è quello di che si spinge molto ad inalzare il livello e a dare una comunicazione che è quella della collaborazione con dei cittadini, cioè non più, come dire, una categoria di lavoratori che è come se vista in un settore a parte, ecco, per capirci, ma invece, ecco, tutti insieme per migliorare le condizioni del mondo. Proprio rispetto alla collaborazione dei cittadini, credo che sia una delle parti più importanti e più basilari, poi ne tocchiamo altre che sono di vitale importanza, però questa mi sembra, come dire, un innalzare l'asticella. Ma ovviamente già come istituzione, no, la Polizia di Stato negli anni è cambiata, è cambiata perché è cambiato, diciamo, il mondo, è cambiato il tempo, quindi i tempi cambiano velocemente, anche grazie alla tecnologia, no? E quindi i tempi cambiano, cambia la Polizia, cambiano anche i modi di approcciarsi col cittadino. Ma io credo che il poliziotto, il carabiniere, finanziere, questi che appunto rappresentano lo Stato, indossano una divisa, non sono altro che dei lavoratori che comunque prestano il loro servizio con un'attività speciale, non dovuta soltanto a un rapporto di contratto economico, ma soprattutto di vocazione, perché devi avere veramente una vocazione per fare questo lavoro, per superare mille difficoltà e comunque credere sempre nella collaborazione e stimolare la collaborazione del cittadino. Questa associazione, nell'andare a difendere la professionalità e l'immagine delle forze dell'ordine e degli appartenenti alle forze dell'ordine, stimola anche e soprattutto la collaborazione col cittadino. C'è proprio un'integrazione col cittadino, il cittadino che deve avere fiducia nelle istituzioni e chiaramente da quest'altra parte questa fiducia non deve essere tradita, perché è chiaro che se il cittadino ti considera come amico, come persona che gli può risolvere il problema, poi vede che tu in quella circostanza lo abbandoni o non porti avanti quelle sue richieste, è chiaro che poi il cittadino non tornerà più. Un particolare che esula magari anche dall'associazionismo, dal sindacato, è bene ribadirlo anche ai nostri telespettatori, il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, non terminano il loro lavoro quando si tolgono la divisa e vanno a casa e quindi cambia lo stato giuridico di quella persona. Ma il poliziotto, il carabiniere, il finanziere sono H24, anche i liberi dal servizio, e questo lo prevede la legge, sono obbligati a intervenire. Quindi questo a maggior ragione per il cittadino deve essere di una garanzia e questo chiaramente da quest'altro lato deve dare delle responsabilità agli appartenenti e a dimostrarsi sempre al servizio del cittadino. Senti Gianni, guarda, tu hai detto bene passato del tempo, è chiaro che tutto deve essere rapportato ai tempi. Però fino a qualche tempo fa, e ti faccio questa piccola premessa, fino a qualche tempo fa, negli ambiti delle forze dell'ordine, quindi ci inserisco anche i carabinieri nell'ambito che sono militari in questo senso, era diventata un po' come dire il senso della copertura sul piano del lavoro, cioè le regioni dove c'era disoccupazione, si diceva che molti sceglievano la carriera del carabiniere o del poliziotto per poter... Io ho visitato quasi tutte le giornate dei giuramenti, devo dire. Ho incontrato tanti giovani, ho incontrato tanti giovani che non sono più quelli che fanno la scelta sul piano, come dire, della sopravvivenza. Molti hanno delle ragioni sociali sicuramente più importanti, quindi vuole dire che la categoria, mettendoci tutti, nel corso degli anni è cambiata. Io credo, come dire, che dal fatto di non avere neanche un sindacato di rappresentanza, dal fatto che oggi ci sono tanti sindacati di rappresentanza, ma ci sono anche associazioni come il Condivisa, che si occupano, come dire, non solo delle dimensioni problematiche interne, ma anche e soprattutto dell'esterno e di considerare, come dire, quello che è la cittadinanza complessiva, il ruolo nelle comunità. Insomma, credo che sia, come dire, una conquista sociale e culturale veramente di gran livello. È vero, confermo. Anche perché, tu sai, io lavoro in un istituto di istruzione della Polizia di Stato, quindi ho visto migliaia e migliaia di giovani e ancora oggi abbiamo un corso in atto di ragazzi che più o meno hanno una ventina d'anni. I tempi forse passati, diciamo, di circa 20-30 anni fa, magari si poteva anche pensare di avere un lavoro, ecco, come poliziotto, come carabiniere, come dire, in alternativa, perché magari c'era questa forte disoccupazione. Ma ad oggi sì, nonostante la disoccupazione, che i tempi non è che poi sono migliorati granché, ma la cosa che è migliorata è proprio la scelta ponderata di fare un passo, quindi di avere una divisa addosso, di onorarla e di fare un lavoro particolare. Quindi questi ragazzi che noi istruiamo per la prima volta e quindi abbiamo anche l'onore, ecco, di rapportarci con loro, come padri di famiglia, come loro colleghi più anziani. Ci trasmettono quella loro voglia di combattere la mafia. Poi prima di tutto, scusa se ti interrompi, sono tutti scolarizzati. Certo, certo. Quindi non esiste più il senso. Esatto, magari 20-30 anni fa erano magari con una licenza media, adesso dalle ultime riforme che ci sono state nella Polizia di Stato, ma anche nell'arma, il minimo titolo di studio da tenere presente, da poter avere per entrare in queste forze dell'ordine è il diploma. Quindi si è inalzato chiaramente il livello di istruzione, ma sono molti anche laureati. hanno, diciamo, una preparazione culturale non indifferente e quindi la loro scelta è proprio ponderata. Abbiamo avuto dei periodi che sono anche transitati per il tramite dell'esercito, quindi hanno avuto anche una prima, come dicevi tu, una prima scolarizzazione in ambito militare e poi la Polizia e le altre forze dell'ordine hanno attinto in queste liste. Ma ultimamente l'orientamento del nostro Ministero, ad esempio, è quello di portare ai concorsi pubblici. Quindi abbiamo anche la più presenza di donne rispetto a prima, quindi magari abbiamo aumentato la perciuntuale di presenza femminile rispetto ai vecchi concorsi e questo magari aiuta anche in alcune situazioni di particolare sensibilità, come proprio la violenza di genere oppure la violenza sui minori. Insomma, di avere una presenza maggiore femminile nei nostri uffici di Polizia è sicuramente un valore aggiunto. E poi noi comunque come associazione ci proponiamo di supportare gli operatori vittime della criminalità organizzata perché, come ben sai, molte volte i nostri colleghi che lavorano proprio sul fronte, soprattutto in queste attività contro la mafia, contro l'andrangheta, hanno e subiscono delle ritorsioni, anche personali. In particolare mi ricordo quando sono stato giù in Calabria, un collega che lavorava con me aveva svolto delle indagini su un'attività particolare di indrangheta e una notte lui aveva parcheggiato la sua macchina al di sotto della sua abitazione e fu trivellata di colpi. Ecco, queste sono situazioni che spesso accadono, anche a livello intimidatorio nei nostri confronti e quindi è giusto che un'associazione si faccia carico e portare avanti le loro giuste cause, diciamo, di colleghi che subiscono attività in prima linea. Sì, ascolta, ed è aumentato molto, come dire, anche il livello complessivo degli interventi. insomma, si entra nei settori più innovativi, cioè io per un attimo penso per esempio alla polizia postale, alla polizia scientifica, cioè l'inalzamento, voglio dire, del livello operativo è notevole, è cresciuto nel corso del tempo e ha dato veramente, ha modificato sostanzialmente tutto. Poi se l'istituzione e insieme alle tante associazioni che operano nell'ambito di questa attenzione, insomma, viene fuori un discorso comunicativo, cioè sicuramente importante, alla fine, insomma, migliorano tutti. Ecco, questo è il sistema. Ma la mia, come dire, domanda, ecco, dopo questo preambolo, che è un preambolo sicuramente positivo, cioè si è cresciuti, si è cresciuti molto e si è diventata parte consistente, voglio dire, della comunità. Però, però, ti faccio una domanda difficile, te la voglio fare perché tu te ne sei occupato, anche quando eri sindacalista, quindi non è che è una domanda che viene lì a sconvolgerti. Ecco, nel 2020 ci sono stati 51 suicidi. Nel 2021 i suicidi sono stati 57 nell'ambito delle forze. E negli ultimi giorni ce ne sono stati tre. E nel corso di questi pochi mesi del 2022 di suicidi tra gli operatori in divisa, che fa il paio con divisa, ce ne sono stati 17. Come si coniughe? Ecco, qual è la tua opinione? Anche perché ho letto, come dire, nell'ambito dello statuto della tua, dell'associazione, c'è anche una parte consistente che riguarda, riguarda proprio questo, insomma. Vedi, quando dice, io ce l'ho, insomma, l'ho preso, poi sicuramente lo potrai commentare tu, quando dice, l'associazione si propone di supportare le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, che questo tu ne hai già più o meno parlato nell'ambito dell'attenzione. Poi, nell'adompimento del proprio dovere o a causa di suicidio, mediante la promozione di raccolta fondi, naturalmente in concerto con le amministrazioni, contribuire alla prevenzione dei suicidi con iniziative rivolte alla tempestina. Allora, la prima cosa, naturalmente, che ti chiedo è la, come dire, questa situazione, ecco, un commento su questa dimensione. E poi, naturalmente, vorrei parlare con te anche degli ambiti della prevenzione, perché credo che poi sia questa, poi, la direzione dell'impegno. Sì, a tutti gli effetti hai messo, chiaramente, diciamo, il dito nella piaga per quanto riguarda un'attività che io, proprio come persona, ho portato avanti e sono stato sempre sensibile. Ho, in passato, con il sindacato dove stavo, portato, diciamo, a Campobasso persone di un certo rilievo. Abbiamo organizzato un convegno in presenza proprio su quello che erano dal tema di questo convegno, quelle che sono, appunto, le strategie da mettere in campo per la prevenzione dei suicidi nelle forze dell'ordine. E questo l'abbiamo organizzato anche unitamente a altre organizzazioni di appartenenza dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria. In questo, diciamo, primo grande evento che abbiamo organizzato a Campobasso, anche con il patrocinio del Consiglio della Regione Molise, con il Consiglio Nazionale degli Psicologi, abbiamo avuto, diciamo, dei grossi risultati perché abbiamo coinvolto non solo le forze dell'ordine, perché il problema dei suicidi nelle forze di polizia, nelle forze armate, non si può risolvere parlando tra di noi, ma l'abbiamo coinvolto con altre parti sociali, no? Quindi abbiamo coinvolto l'ordine degli psicologi, l'ordine degli assistenti sociali, l'ordine degli avvocati, dei giornalisti, e ha partecipato anche a questo convegno l'Associazione dei Magistrati. I relatori erano di vario genere, chi era medico, chi era avvocato, un giudice, il dottor Colucci, psicologo, il dottor Nicola Malorni, quindi per ognuno di loro hanno fatto una relazione su quella tematica. Noi chiaramente da quel convegno poi abbiamo continuato, abbiamo fatto ulteriori seminari, webinar, proprio per avere diciamo contezza di questa problematica, sensibilizzando anche le nostre amministrazioni, perché sinceramente stiamo notando una certa staticità. E' questo che ci preoccupa, perché come hai ben detto tu, i numeri sono aumentati, ci sono dei periodi, come pochi giorni fa, che addirittura ci sono stati due o tre suicidi in un giorno, io parlo chiaramente a 360 gradi dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, e poi stiamo notando anche che questi suicidi nelle forze di polizia, nelle forze dell'ordine, appartengono a persone anche di una certa età, magari quasi che arrivano alla pensione, quindi ulteriori cinquantenni, quindi ultra cinquantenni che decidono di farla finita. Allora, oltre a parlarne, oltre a aver fatto anche dei webinar, coinvolgere anche delle associazioni, coinvolgere ad esempio anche delle persone diciamo tecniche del settore, come il dottore Luigi Lucchetti, con il quale collaboriamo, e il dottore Luigi Lucchetti ha scritto anche diversi testi su questo triste fenomeno, anche perché lui era un appartenente alla polizia di Stato e quindi sa bene cosa nasconde questo fenomeno. Però tutto ciò non basta. Allora, con l'associazione dove io adesso faccio parte vorremmo fare ulteriori passi in avanti cercando sempre di sensibilizzare l'opinione pubblica, le nostre amministrazioni, ma soprattutto di andare a fare delle proposte anche di legge che si possono fare. Magari portare la nostra esperienza di queste ricerche, di questi numeri, che ad esempio il collega Cleto Iafrate che è il responsabile dell'osservatorio suicidi in divisa, che è un osservatorio creato proprio sulla piattaforma Facebook e che aggiorna senza mettere ovviamente i dati personali di queste persone che decidono di farla finita, però ci dà questi numeri che sono molto importanti. Allora facciamo delle proposte tipo inserire nelle varie amministrazioni dei punti di ascolto. Ecco, io non per questo, ma per maggiore mia cultura ho aderito a quella convenzione che ha fatto la Polizia di Stato con l'Università del Molise. Sono iscritto all'Università alle Scienze del Servizio Sociale proprio per migliorarmi, per confrontarmi ecco con altri campi psicologia, sociologia e soprattutto quello dell'assistenzialismo. Quindi avere un'informazione maggiore, una cultura maggiore, portare dei punti di ascolto magari non con personale psicologo oppure anche col personale psicologo ma magari prevedere proprio delle assistenti sociali in ambito delle nostre amministrazioni per poter dialogare, capire i problemi che si possono nascondere dietro quel collega che indossa una divisa. Fare delle proposte di legge importanti come ad esempio la prevenzione dei rischi sul lavoro, portare a conoscenza di chi entra in queste forze dell'ordine che uno dei rischi maggiori è proprio il suicidio perché portare un'arma è come portare uno strumento di lavoro quindi magari se si riesce ad inserire questo discorso dell'arma nel documento valutazione dei rischi allora si può fare più formazione e più informazione quindi sono delle proposte che da qui a breve con l'associazione faremo cercheremo di portarle avanti in ambito proprio dell'associazione c'è una proposta di conciliare una diciamo una commissione interna a questa associazione di fatte di queste persone specializzate sensibili al problema e poi portare queste proposte a conoscenza delle varie amministrazioni proprio perché è un silenzio assordante noi questi morti ad oggi non sappiamo proprio giustificarli cioè queste molte di queste vittime di suicidio dietro hanno famiglie bambini hanno delle storie sì non hanno problemi diciamo chiari a parte alcuni casi diciamo di salute che possono essere riconducibili ma la maggior parte di questi casi abbiamo visto che sono anomali allora evidentemente c'è qualcos'altro Gianni io ti dico la verità tu ne hai parlato già altre volte di questo di questo per problema che è un problema serio molto forte perché se lo paragoniamo ad altre categorie insomma ci accorgiamo di un picco ecco di un picco molto importante tra l'altro proprio perché ne avevamo parlato ecco tu stesso mi hai fornito varie documentazioni per mia conoscenza e insomma ecco sfatiamo subito un campo un qualcosa che potremmo pensare perché a volte abbiamo pensato che potessero essere dei problemi legati ai luoghi per capirci in alcuni luoghi dove per esempio la lotta la criminalità è più forte e quindi diciamo l'usura mentale può essere parte in causa di un di un malessere ecco in realtà poi insomma io mi sono accorto vedendo gli eventi del 2022 che il primo evento si registra il 25 febbraio del 22 ed accade a Pisa poi passiamo ad Enna quindi una parte completamente distante dal primo evento il primo era dell'esercito e il secondo della polizia il primo comunque era un caporal maggiore dell'esercito che aveva 48 anni insomma il secondo era ad Enna polizia penitenziaria poi passiamo a San Mango Piemonte che è in provincia di Salerno se non sbaglio e qui insomma risaliamo un poco ed è polizia di Stato poi a Bologna polizia di Stato poi a Genova polizia locale poi a Sanremo e insomma qua siamo rimasti per qualche episodio nella Liguria poi scendiamo a Bari poi risaliamo a Prato poi a Roma poi a Ravenna insomma voglio dire senza che te li cito tutti quanti ma riguardano l'Italia cioè non riguardano più il luogo quindi tu quando qualche volta ne abbiamo parlato a suo tempo abbiamo detto che in alcuni luoghi insomma c'era una sorta di pesantezza in più rispetto al lavoro cioè la gente che opera a Campobasso o a Isernia per capirci è sicuramente diverso nell'ambito del peso come dire lavorativo rispetto a qualcuno che lavora a Napoli e in una parte di Napoli particolare oppure qualcuno che lavora in zone dove sono a Palermo dove sono perfettamente riconoscibili alcune lotte al reato no qua è diffuso allora il malessere come dire tu stessa hai detto è difficile collocarlo è difficile capirlo però insomma abbiamo una dimensione che è veramente preoccupante cioè è l'arma che preoccupa ti faccio questa domanda che non lo so cioè e avere l'arma 24 ore su 24 a disposizione può essere un problema ma allora sicuramente a livello geografico come hai potuto notare dai dati che io ti ho fornito ma io ringrazio Cleto Iafrate il collega della Guardia di Finanza che con il quale collaboro e che ho anche intervistato tempo fa e che lui come ti ho detto prima è molto attento e quindi mette almeno queste cose importanti si si lui fa proprio un'attenzione massima e quindi documenta e poi chiaramente attinge un po' da tutti noi anche l'età non so se ne notate tutte intorno ai 50 si ecco alcuni sono tra i 40 e i 50 questa è la fascia si e riguarda come abbiamo potuto constatare anche tutte le forze dell'ordine e forze armate si esercito si si ma la questione secondo me innanzitutto è un malessere diffuso e comunque chiaramente la maggior parte di questi hanno utilizzato l'arma in dotazione e quindi come dicevo prima nelle varie proposte si potrebbe pensare che lo strumento di lavoro è quello che comunque maggiormente viene utilizzato per farla finita ma perché sarà magari un personale stressato un personale che ha avuto diciamo negli anni è stato logorato da questa attività da questa divisa io in passato organizzai più volte un webinar proprio sull'onore e il peso della divisa perché il poliziotto il carabiniere il finanziere portano la divisa con onore però a distanza di tempo e comunque con il cambiamento dei tempi c'è anche il peso di portarla allora magari si potrebbero inserire dei controlli diciamo più frequenti nelle varie amministrazioni mettere come ti dicevo dei punti di ascolto magari modificare così come si sta facendo anche quello che è un ordinamento un po' rigido in questi casi perché se qualcuno di questi ha dato dei segni particolari subito si parte con la sospensione il togliere l'armamento escluderlo diciamo dal lavoro e quindi queste modifiche che si andrebbero a fare magari porterebbero sì a prevenire togliendogli l'arma ai colleghi però pure a incentivare questa situazione però magari lasciargli la qualifica ecco così come si sta valutando di fare e tenendoli impegnati in lavori diciamo d'ufficio non escludendoli isolandoli sospendendoli perché magari si potrebbe anche aggravare quella situazione psicologica io credo molto nel una volta esisteva il pari un collega che veniva diciamo formato proprio per tenere dei colloqui con i suoi diciamo colleghi e avere diciamo anche dei riscontri perché magari il carabiniere il poliziotto finanziere l'appartenente all'esercito è fatto di carne e di ossa quindi è una persona in quanto tale va tenuto in considerazione anche con i suoi problemi quindi magari il poter parlare poter sfogare anche capire capire conoscere alcuni problemi io comunque lo dico per notizia magari degli spettatori noi abbiamo da quanto c'è stata la legge Madia un taglio di personale che non riusciamo a compensare con tutto che stiamo facendo dei corsi di formazione a ruota continua si prevede che nel 2027 ci saranno parliamo solo della Polizia di Stato ad esempio un taglio di 10.000 unità cioè un gap desicitario di 10.000 unità quindi anche questo non è da sottovalutare che magari persone di una volta che avevano diciamo più personale uffici che avevano più personale magari lo stress lavorativo era magari diviso in più persone adesso nelle attività operative soprattutto quelle che sono diciamo di prossimità a che fare con il cittadino sono inferiori come numeri però i servizi magari sono anche aumentati quindi magari tenere anche un occhio a questo discorso di personale perché con la legge Maria con la spending review non c'è stato quel giusto turnover sono andati in pensione tanti colleghi ma non solo nella polizia anche nell'arma e non sono stati rimpiazzati ad oggi stiamo cercando di fare corsi a tutto spiano di formazione ma non riusciamo a compensare a ripristinare quel deficit e questo anche questo voglio dire ha un suo perché è chiaro che il sistema del risparmio diciamo generale non premia poi la copertura sul territorio di quello che è cioè diventa difficile poi riuscire a fare i conti chiaramente la sicurezza io l'ho sempre portato avanti questo discorso non è un discorso di numeri è un investimento che va fatto proprio per la sicurezza del cittadino così come la sanità cioè sono dei settori dove non bisogna andare a guardare al risparmio ecco il risparmio si potrebbe fare su altri capitoli però io credo che in questi settori con sicurezza di cui io mi occupo e ovviamente ad oggi con la pandemia che abbiamo è importante investire quindi è chiaro che si sono stati nel passato dei tagli che hanno portato sia nella sicurezza che nella sanità ad avere poi quelli che sono diciamo i deficit odierni mi auguro che nel futuro ecco dopo queste esperienze negative non ci fossero altre scelte scellerate che sono state fatte nel passato sì Gianni anche perché dobbiamo dire insomma se abbiamo questo problema questo macigno enorme dei suicidi nelle categorie che riguardano le forze dell'ordine e la parte dell'esercito naturalmente però spesso e volentieri come dire entrano poi anche nella cronaca cioè che non sempre insomma scatta solo il suicidio una volta scatta scatta perfino l'omicidio e qualche volta le stragi insomma e quindi credo che ci sia come dire la necessità di poter operare io ritengo che il compito che si è assunto l'associazione che tu rappresenti sul territorio molisano insomma sia un compito estremamente positivo insomma perché non guarda solo all'esterno ma parte dal presupposto di guardare essenzialmente all'interno e credo che questo voglio dire sia sia perfettamente in linea anche poi assegnando delle attenzioni particolari che sono quelle della salvaguardia del corpo insomma che comunque è dell'appartenenza ecco detto questo detto questo ti chiedo ti chiedo naturalmente di parlare delle condizioni molisane perché comunque sia ecco l'ambito del Molise è sempre stato come dire considerato una sorta di isola felice di particolare dimensione ecco io credo di poterti dire che spesso e volentieri commentando i fatti quotidiani insomma mi accorgo che poi quest'isola felice è un po' un sogno che si è infranto forse tanto tempo fa ecco qual è la tua la tua visione sulle condizioni molisane niente io sempre con le attività pregresse come prevenzione ho portato avanti come sensibilità anche il discorso di non più isola felice assolutamente e di non abbassare la guardia io proprio personalmente ho manifestato contro la chiusura di posti di polizia come il distaccamento della stradale di Larino ultimo pochissimo tempo fa il posto polfer a Campobasso della polizia ferroviaria e niente però ho notato che un pochino sia i cittadini che anche le istituzioni non hanno capito bene forse l'importanza di questi baluardi e credo che anche se non visibilmente nella nostra regione nel nostro territorio purtroppo la mafia c'è l'andrangheta magari non ha messo proprio le radici ma comunque i suoi malaffari li fa allora per prevenire per investigare per poter tenere pulita la nostra terra che comunque è al confini con la mafia foggiana la camorra e non ultimo abbiamo avuto prova di infiltrazioni dranghetiste c'è bisogno di personale cioè è chiaro che se andiamo a ridurre il personale nel nostro Molise è chiaro che non si potrà mai poter andare fino in fondo a queste situazioni perché io credo sempre che la prevenzione è la migliore cosa quindi prevenire è sinonimo di avere il giusto personale chiaramente il cittadino abbiamo detto da prima deve essere collaborativo sensibile collaborare con l'autorità giudiziaria con le istituzioni forze di polizia però il personale ce n'è bisogno invece io sto notando che molte volte quando si fanno questi corsi di formazione i poliziotti più giovani vanno nelle grandi città e qui non va bene perché perché anche qui nel Morise c'è necessità di forze giovani certo sono molto come dire d'accordo con te ma anche molto colpito da un aspetto cioè da quei segnali che sono Morise come terra di conquista cioè Morise appetibile dal punto di vista della malavita organizzata per capirci segnali che ci arrivano spesso e volentieri dalle zone limitrofe dove colleghi persone che comunque dicono attenzione attenzione perché noi dalle nostre parti stiamo vedendo che c'è questa come dire desiderio di conquistare la parte molisana ecco io credo che le dismissioni sono sicuro guarda di dirtelo proprio perché sono d'accordo con quello che tu queste dimissioni che sono poi cancellazioni di presidi presidi che a volte sono importanti credo che siano poi state delle terie per quanto riguarda e come se tu apri la porta noi come associazione continueremo sempre a sensibilizzare le istituzioni affinché nel nostro Morise vengano assegnate nuove forze anche perché rilegandomi al discorso di prima è la mafia che comunque fa affari con la droga cioè la droga ogni giorno ecco nel nostro territorio o sulla provincia di Campobasso o sulla provincia di Sernia viene trovata gente che porta droga e quindi gli spacciatori voglio dire è sicuramente un mercato è una lotta quotidiana che poi non dico io umile operatore di polizia e servitore dello Stato ma l'ho affermato non tanto tempo fa e lo continuo ad affermare anche il procuratore capo dottor D'Angelo e oltre alla droga magari possiamo comunque preventivare e prevenire alcune attività illecite che sono legate alla droga quindi ripeto per noi come associazione nei vari scopi statutari è proprio quello di salvaguardare anche i territori e quindi cercare la collaborazione e noi stessi ecco a breve chiederò di incontrare sia il questore che il prefetto proprio come associazione e ci mettiamo a disposizione proprio per questo tipo di attività cioè le nostre attività di sensibilizzazione porteranno sicuramente a migliorare questo territorio ecco tenete presente che noi siamo disponibili come dire ad essere parte in causa cioè nel senso che ci offriamo completamente al percorso proprio perché insomma siamo convinti che che c'è bisogno di tutti per risolvere il problema mi senti io ho scelto come titolo questo titolo di questa nostra conversazione come tutele oneri e onori delle forze dell'onore non so se ho sbagliato dimmi tu cioè il senso era quello complessivo di un movimento di un movimento complessivo che riguarda tutta la categoria dove insomma ci sono dei momenti positivissimi ad altri positivi ad altri meno positivi ecco noi siamo abbastanza come dire convinti che nel Molise le forze dell'ordine stiano lavorando bene però insomma siamo anche convinti che la lotta quotidiana verso la criminalità si è alzata e si è alzata di molto anche e soprattutto per questa sorta di tu l'hai nominata questa sorta dipendenza dalla droga che sembra insomma l'isola felice probabilmente si misura anche in questo che non c'è cioè se noi ogni giorno siamo chiamati a dare comunicazione di un'operazione o di un'altra dove insomma ingappano nel problema tante persone che non sono soltanto giovanissime ma sono anche giovani persone come dire di una certa età vuol dire che il fenomeno esiste ma bisogna essere anche realisti Giuseppe io non credo che polizia carabinieri e guardia di finanza riescano a fermare o arrestare tutti gli spacciatori quelli che magari riusciamo ad arrestare a fermare forse una punta dell'iceberg una piccola parte una una parte minore chissà forse se non riusciamo ecco con più forze con più attività con più intelligence ad approfondire e capire bene che ci saranno forse anche altri movimenti più più importanti io mi auguro di no però nel calcolo delle probabilità c'è anche questo quindi perché abbassare la guardia noi ogni giorno abbiamo questi riscontri sono oggettivi quindi è bene considerare che comunque c'è il circolo c'è lo spaccio di queste sostanze illegali e quindi c'è necessità di investire maggiormente nella prevenzione ma la prevenzione non si fa solo ecco come abbiamo detto investendo nelle forze dell'ordine magari con qualche giovane in più anche in questi territori dove l'età media è di circa 50 anni ma è anche vero che il cittadino deve collaborare senza paura perché se il cittadino ci collabora e ci dà delle giuste informazioni noi cittadino come forze dell'ordine chiaramente lo tuteleremo e avremo la possibilità di combattere questi che sono delle devianze per i giovani i nostri figli i nostri giovani che possono incappare in queste dipendenze e infatti una delle domande verso la fine della conversazione che ti volevo fare era proprio cosa possiamo fare tutti quanti noi ecco questo era il senso possiamo fare tanto possiamo fare tanto perché i cittadini hanno proprio il potere in mano chiaramente io anche in passato in prima persona con altri colleghi siamo andati nelle scuole a parlare al cuore dei ragazzi lo faremo anche con l'associazione prevenzione alla droga prevenzione all'abuso di alcol perché forse non se ne parla molto perché la notizia diciamo che principale che va a offuscare tutte le altre è quella della droga della tossicodipendenza ma c'è anche da parlare di alcolismo che comunque colpisce i giovani giovanissimi anche al di sotto dei 18 anni bullismo cyberbullismo ultimamente anche a Campobasso così come in tante altre parti d'italia c'è questo sviluppo diciamo di gang baby gang che fanno del bullismo anche con persone anziane insomma ci sono tante situazioni che chiaramente solo le forze dell'ordine non potrebbero contrastare ma con l'ausilio del cittadino con la collaborazione del cittadino sicuramente l'associazione condivisa in prima fila possiamo sicuramente contrastare senti siamo arrivati alla fine naturalmente io ti consegno come dire ai nostri telespettatori con una riflessione finale ecco un saluto che fa dove tu se vuoi sottolineare alcuni aspetti io chiaramente saluto i nostri telespettatori ringrazio per la per l'attenzione che ci hanno prestato noi come associazione condivisa facciamo questa attività anche nel Molise mi auguro che diversi colleghi che sono anche nell'arma dei carabinieri quindi in tutte le forze di polizia si possano iscrivere l'iscrizione è gratuita io le registro le ritiro presso la la scuola di polizia dove lavoro mi possono contattare i colleghi quindi più ne siamo come associazione e più possiamo investire in queste buone pratiche di legalità e chiaramente apriremo anche al cittadino che vuole collaborare le nostre attività di sensibilizzazione e di prevenzione ecco grazie grazie Gianni naturalmente noi per chi vuole può anche mettersi in contatto con noi che poi toccherà come dire raccogliere le istanze ve le trasmettiamo io ti ringrazio molto sei come dire invitato permanente tu sai per ogni sottolineatura di questi aspetti ecco ci preme come dire ti affidiamo anche la nostra collaborazione per quanto riguarda la soluzione di questi grossi problemi grazie siete sempre stati sensibili a questi problemi quindi è automatico posso che ringraziarvi per l'attenzione che ci date in senso generale come forze dell'ordine che siete sempre attenti chiaramente anche voi fate un vostro giusto importante lavoro come informazione e quindi cerchiamo di come dire dobbiamo costruire un po' tutti insieme ecco il senso è molto semplice ecco perché ti dicevo sei invitato permanente perché io credo che voglio dire dobbiamo fare anche delle scelte che anche degli umili sforzi per capirci per migliorare un po' le condizioni complessive di tutti insomma noi ci ha colpito molto questo dato che è un dato negativo per quanto riguarda ecco persone che si tolgono la vita credo che voglio dire siano dei gridi d'allarme penso che sia importante io per concludere posso solo dire questo che come forza dell'ordine in generale in particolare oltre a quello di prevenire e reprimere i reati facciamo molta attività sociale quindi come si può notare anche nei mass media dai social network polizie carabinieri finanzieri che aiutano i più bisognosi anche per far sì che questo welfare state questo stato sociale dove necessitano appunto molte persone di bisogni importanti necessari ecco vengono eliminati questi ostacoli e portati anche a tutela dei cittadini sotto altri aspetti non solo di quello dei reati ma anche nell'aiuto però nello stesso tempo c'è un grido d'allarme forse anche non tanto rumoroso infatti questi eventi di cui abbiamo parlato non sono portati alla ribalta delle cronache che però da noi interni cercheremo chiaramente di combattere e cercare di venire incontro a noi stessi perché poi a tutti gli effetti ci saranno sicuramente delle difficoltà interne che dobbiamo sopperire con altre attività certo e delle scelte ben concrete e ben precise grazie Giovanni Alfano grazie a te ricordo ai nostri telespettatori oggi responsabile regionale dell'associazione condivisa che è una bella realtà italiana grazie Giovanni a presto grazie a te Giuseppe grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te